Ciao, sono Pietro, sto pedalando da Mantova fino alla Bretagna, 1600-1700 km in bicicletta attraversando tutta la Francia, superando le Alpi e tante altre storie che vedrete nei vlog se non sono già usciti. Ma oggi sono qui per parlarvi velocemente del mio setup bicicletta, ossia di quello che mi sono portato e di come ho setupato questa vecchia bicicletta per fare questo lungo viaggio in solitaria. Allora, cominciamo brevemente dal setup e poi vi faccio vedere anche che cosa ho dentro. Allora, partiamo da davanti il mio pezzo forte, ossia la Handlebar Bag che è attaccata con, vedete, questo supporto qua classico che si vede spesso in questi tipi di setup preso su Aliexpress a un paio di euro e supportato qua da un nastrieno, insomma, vabbè, un bagaglio. Qua c'è una torcia di action da 3 euro che ho attaccato qui e qui davanti c'è appesa questo marsupio che a volte tengo sulla schiena, sui lombi, dove tengo magari le cose che compro durante il giorno, il portafoglio, alcune cose, che quindi è attaccato qua dietro semplicemente, semplicemente poi qua appoggiato ed è attaccato da queste due semplici cinghie da portapacchi, insomma, che però lo rendono abbastanza solido. Sono riuscito a comprimere tutto così bene perché il saccopeno non l'ho ristretto nel solito verso, non ho usato la sacca di compressione, ma ho in modo tale da permettere che sì, che poi con queste cinghie qua si espandesse più in longitudine normalmente, vabbè. Poi davanti qua ci abbiamo due fork bags da 5 litri l'una Aliexpress, una ventina di euro, attaccati con i loro attacchi standard e però anche delle zip ties, delle fascette dell'elettricista perché è già comunque non è che tenga bene, devo aggiustarlo, però sono abbastanza impermeabili, non sono proprio super resistenti, vedeteci qua c'è già un po' di usura. Qua c'ho l'elettronica e l'attrezzatura e qua c'ho il cibo, dopo vi faccio vedere meglio. Qui sul manubrio ho una sacchetta dove tengo l'opinel, dove tengo attaccata alla GoPro e dove tengo un po' gli snack del giorno, di solito le noccioline, eccetera, prima c'avevo un cetriolo e qua c'ho l'attacco quadlock tarocco, sempre Aliexpress, un paio di euro, che però va da dio, è quello da moto, non quello da bici, ma mi sono trovato meglio, mentre questa è la cover originale che ho trovato insieme al poncio a un quinto del prezzo ufficiale su subito.it. Campanello e questo qua è il mio fiore d'occhiello, ciò che mi sta salvando veramente l'ergonomia del viaggio, ossia questi qua che sono delle copie dei cloni di una roba che si chiama Inner Barents, plastica, Aliexpress, un paio di euro, comodissimi. Quindi qua dicevamo, qua ci sono i pali della tenda che come vedete sono attaccati da questo sistema, un po' del cavolo, però che funziona, qua gli elastici si stanno mangiando, lo so, ho utilizzato dei vecchi pezzi di cavo delle biciclette, un po' di fascette e qua appunto tengo i pali, tre borracce, più o meno due litri e mezzo totali, con i porta borracce quelli standard vecchi di metallo però che sono più sicuri, qua è attaccato con i bulloni, qua un bullone e poi fascette e nastro ad elettricista e qua soltanto fascette e nastro telato e comunque non mi è mai scappata una borraccia, è tutto comodo, accessibile, sono contento. Qui dietro abbiamo la luce posteriore, B2 in piccolina, posso attaccarla anche dietro al casco ma per adesso non l'ho mai usate e qua dietro appunto abbiamo la sacca da sella, sacca da sella che mi è stata prestata da un amico, 20 litri della Miss Grape, quindi è un'ottima marca italiana e chiaramente io avendo una bicicletta che mi è leggermente larga, ho il sellino abbastanza basso e quindi mi è capitato spesso che toccasse, ogni tanto dovevo stringere perché comunque avevo tante robe sopra, sopra ci sono anche le ciabatte e l'ukulele e quindi ogni tanto toccava, se avessi il sellino più alto non sarebbe un problema. Per quanto riguarda la bici, le uniche modifiche che io ho fatto, scusate vi faccio vedere la parte della trasmissione, i puristi che poi si arrabbiano, le uniche cose che ho cambiato sono state la cassetta che è sempre una sette velocità ma ho cambiato questa qua, io l'ho messa intanto nuova visto che c'era 20 anni l'altra e poi questa qua è la versione Mega Range in cui l'ultimo pignone è 4 denti in più, quindi appunto è molto più morbido e per le salite mi ha salvato anche quello, ho cambiato la catena, ho cambiato tutti i cavi che vedete che ho fatto passare esternalmente, non ho utilizzato i passaggi ufficiali in modo tale da avere il housing, come si dice, la guaina completa, in modo tale che qua anche se appunto mettevo qualcosa e anche se toccava non faceva sfregamento e mi sentivo più sicuro, ci sono delle curve un po' strane, lo so che non vanno benissimo, alcuni li ho fatti un po' troppo lunghi però così almeno, a parte qui, questo è letteralmente l'unico punto in cui il cavo è esposto e per me ci sta, e ho cambiato anche i pedali, ho messo questi pedali qua, doppia faccia, sia con l'attacco rapido che flat di alluminio della Decathlon che fanno schifo, girano malissimo e qua c'è la vite completamente spanata che quindi lo rende impossibile da regolare e queste qua sono le mie scarpe che ho fatto a mano con un pezzo di plastica di questo qua, ah questo qua è un portasacchetti dell'Ikea l'ho fatto a mano anche questo qua col taglierino, l'ho tagliato tutto ma funziona da dire, l'ho trovato su Pinterest, tantissima roba e appunto queste qua sono le mie vecchie Lompix, altre che ho usato per fare 1500 km a piedi e che non volevo buttare e l'ho detto vabbè rendiamo delle bici a ciclismo, ho preso le tacchette, ho fatto un po' una roba il destro si attacca, il sinistro no e poi in più questo qua non si rende regolabile quindi questo è troppo mole, vabbè chi se ne frega i copertori anche questi qua li ho cambiati, ho messo gli Schwalbe Marathon Plus Tour che sono rinomati insomma per essere il top per quanto riguarda il touring che prevede anche un po' di offroad, infatti c'è una stabilità pazzesca anche quando mi sentivo più insicuro non sono mai caduto, è stato veramente il top, vabbè che sono nuovi e in più si dice che tengano 10.000 km e l'ho trovato in sconto, è stato un top acquisto veramente, ho cambiato questo freno qua dietro che si era rotto una molla, ho cambiato tutti i pattini sia davanti che dietro e per quanto riguarda il sellino, vedete che sopra c'è la custodia impermeabile sia perché piove, sia perché, adesso mi cade la bici, perché il mio sellino fa schifo l'è tutto rotto e non voglio che si rompa ancora di più e che ci entri dentro l'acqua però mi sta trattando abbastanza bene, è un tioga mi sembra e ci ho pensato di comprare un nuovo prodotto, dai prossimo viaggio, però adesso mi accontento di questo infatti ci sta allora cominciamo appunto dal marsupio, questo qua è il marsupio a 10 litri che quindi ha molto spazio, che si può allargare, si può comprimere quindi qua ci mettengo la carta igienica, anche per soffermi il naso lo stick anti sfregamento, che poi alla fine è vaselina sovrapprezzata gli elettrolitri in fasticche da mettere nell'acqua quando giornate un po' più intense, questo qua è il poncio per il telefono della quadlock che mi ha regalato il tipo che mi ha venduto la cover su subito che è top quando piove e poi qua davanti ho semplicemente le cuffiette bluetooth il portafoglio full size e la chiave del lucchetto con una torcina e basta e qua nelle tasche laterali tengo la spazzatura oppure la borraccia insomma è molto pratico anche per quando devo spostare delle robe e averlo mezzo vuoto è ideale ok borsa, attrezzi ed elettronica quella del cibo non ve la faccio vedere perché non c'è niente interessante sono sacche stagne quindi non tengo dentro nessun tipo di liner ha un lucchetto abbastanza semplice giusto per lasciare la bici 10 minuti in custodita sacchetto elettronica con due power bank da 10.000 la torcia alla testa un caricatore con tre prese e tre o quattro cavi quindi appena il caricatore veloce da 65 watt quindi appena arrivo nella casa di qualcuno posso caricare tutto immediatamente ma non ho assolutamente di questi problemi visto che sono quasi sempre ospitato la gavetta classica titanio 750 milliretri con dentro vabbè adesso ho dei biscotti boccetta dell'olio accendino sporco e fornelletto classico titanio DRS pompetta per gonfiare le ruote mai usata multitool decathlon con le chiavi full size che ci sta con anche le leve per le gomme ha dei difetti però anche lo smagli a catena insomma è un buon compromesso secondo me bombola del gas elastici di scorta kit minuteria con dentro anche un paio di pattini le toppe, delle maglie rapide un po' di piccole cose camera di riserva nuova di pacca e per ultimo scotch elettricista dry bag da 20 litri con sistema letto non è una dry bag di quelle toste come quella della nera però comunque ieri è piovuto e l'ha tenuto non so se piovesse tutto il giorno se tenerebbe uguale dentro comunque ho un sacchetto in più anche se come vedete vabbè insomma non è proprio il top e come vedete c'è un'altra cinghia in modo tale che io possa precomprimere il tutto e questo qua è proprio un salsicciotto con dentro la tenda sia cateno che sovrattelo se riesco a metterli via asciutti altrimenti metto esterni a sacchetto materassino gonfiabile da quello corto cuscino e sacco pelo vedete che il sacco pelo come si è allungato perché lo stringo in questo verso e funziona da dio ultima ma non per importanza la sacca da sella con tutti i vestiti allora togliamo la bandierina del capitano e qua togliamo anche il bungee cord per l'ukulele quindi qua abbiamo nelle sue elastici i sandali minimalisti le super leggeri occupano poco spazio come vedete qua ho dovuto aggiustarla un po' ho fatto un po' di cuciture perché si stava tutto distruggendo è molto usata però tiene da dio e si vede che è fatta bene e quindi sono molto velato a Sergio che me l'ha prestata e come vedete dentro c'è molto spazio quindi qua ho pantaloni impermeabili pantaloncini a ciclismo di scorta e un po' di roba sporca qua c'ho dei calzini dopodiché dentro tengo un altro sacco della spazzatura in modo tale che perché questa sacca qua non è impermeabile quindi adesso tiro fuori direttamente il sacchetto questo qua è molto più grande e top quelli della lavanderia classico il mio beauty con le robe insomma per lavarmi un po' di medicine e cose del genere solito asciugamane microfibra piccolino maglietta di bruscelliani in cotone che ho usato solo una volta che l'ho portata praticamente solo per arrivare là qua c'ho una piccola dry bag di quelle stagne serie per le mie robe un po' più importanti che però non mi servono tutti i giorni come il diario del viaggio che mi ha ricucito Giovanni rilegato l'e-reader nella sua custodia biglietti della lotteria di slambata e gli sticker del reparto e una penna e vabbè dei coltelli una serie di coltelli e un'altra penna poi full art del reparto anche questo qua l'ho portato soltanto per una volta che sarò là e prolunghe per i pantaloni columbia che uso la sera quando arrivo in casa della gente pantaloni columbia packable vedete che si è rientrando dentro la loro tasca mega top è il mio cugino se lo aveva 15 anni buff felpa coil che ho usato quasi soltanto una volta un paio di calze magliette merino per la sera mutande sintetiche per la sera basta questo è tutta la mia roba e poi la vedi qua è sembra un botto in effetti però avrei potuto portare qualcosina in meno ma veramente poco però sono contento anche di non aver avuto tanto più spazio perché sennò avrei portato più roba e già si fa fatica a pestare così e no sono contento di avere un setup bikepacking e non tour touring classico perché non lo so non ho veramente necessità di portarmi 5 magliette per cosa che poi tanto con warm shower fai la lavatrice a casa della gente oppure lavi le tue robe da qualsiasi parte cioè avere due magliette anche addosso ah ecco addosso addosso questa maglietta qua patagonia sintetica anni 80 gli altri pantaloncini classici decatron con le culotte e calze le calze con le dita e queste scarpe qua maledette il casco van rise il decatron classico però buono ci sta è comodo non mi lamento e quindi questo è tutto questo è tutto quello che mi sono portato ah beh chiaramente poi c'ho anche il guscio che era già fuori perché prima pioveva guscio bergaus solito classico mio un po' pesantino un po' ingombrante ma vabbè quello che ho e basta non mi sono portato altro e di cose ci ho messo qualche giorno ad aggiustarmi a capire come tirare dove mettere alcune cose eccetera però adesso mi ritengo soddisfatto e penso che funzioni tutto bene potrebbe essere un po' più leggero ma in primis la bicicletta credo che sia sui 15-16 kg di per sé e adesso il mio materiale almeno 10 kg ci sono secondo me però forse non tanto di più non ho idea non sono stato lì a fare il lighter pack non c'è nessun elenco con i pesi mi spiace ragazzi non sono ancora diventato un fanatico del ciclismo a quel punto lì per il trekking c'è tutto guardate gli altri il video sul canale ok grazie mille di avermi seguito e attendete i vlog che arriveranno appena possibile e basta seguitemi su telegram e mettete like e iscrivetevi e ciao grazie